ciao runners e ciao amanti della corsa io sono lorenzo maggiani e questo è il podcast da 0 a 42 l'inizio dell'anno è il classico periodo in cui si definiscono i propri obiettivi per la stagione a venire e anzi se vogliamo forse sono un pelino in ritardo perché per molti di voi la scelta in realtà è già stata fatta ma chi se ne frega tanto questa in realtà è una puntata evergreen con dei concetti che restano sempre applicabili a prescindere dal momento dell'anno in cui ci si trova a dirla tutta gli obiettivi miei ed in generale di come sceglierli ne ho certamente già parlato in precedenza in qualche episodio qua e là sparso ma oggi vorrei tirare fuori qualche metodologia che ho letto in giro e provare a riportarvela dando un taglio più metodico per così dire perciò nei prossimi minuti citerò qualche personaggio più o meno conosciuto nel mondo business marketing comunicazione motivazione e simili che hanno provato a definire strategie filosofie per la scelta degli obiettivi personali o delle loro aziende ma come amo ripetere spesso lo sport e nel nostro caso più specifico la corsa sono spesso vicini ed intrecciati con la vita di tutti i giorni infatti vi anticipo che farò sì discorsi anche molto generici se vogliamo ma vi invito a prestare attenzione a come questi pensieri siano tranquillamente adattabili e riportabili anche sulla nostra amata corsa farò in ogni caso qualche esempio sparso per riportarci sul running ma iniziamo il primo nome è forse inflazionato e conosciuto anche se siete nel giro della comunicazione motivazione compagnia cantante ovvero Tony Robbins che però qua ci dice in un certo senso perché dovremmo metterci lì per definire bene un traguardo da raggiungere nello specifico afferma come definire un obiettivo sia il primo passo per rendere visibile l'invisibile ovvero più terra terra così facendo possiamo rendere più tangibile un pensiero legandoci alla realtà consentendoci di fare delle valutazioni più concrete e misurabili quindi per la corsa una maratona sotto le quattro ore imparando a definire bene un obiettivo ci aiuterà poi nell'essere maggiormente indipendenti anche dal giudizio e dall'approvazione altrui rendendo il tutto più preciso appunto sarà un numero nel nostro caso ci indicherà non solo cosa raggiungere ma anche poi di conseguenza il percorso intermedio passo per passo per arrivarci selezionare una certa gara o comunque un particolare target ci consentirà di avere intanto una visione su cosa fare per raggiungerlo senza quello è già difficile iniziare è complesso diciamo che è proprio il primo passo definire cosa fare certo si può correre anche senza e spesso mi piace dire che dovremmo teoricamente imparare a fare anche così cioè correre solo perché ci piace perché è bello farlo ma io per primo voglio divertirmi cercando periodicamente qualche piccola sfida personale e le sfide si ottengono anche e soprattutto direi con gli obiettivi ma più in generale poi questi target ci danno una direzione e forniscono a cascata una motivazione e senso di scopo per ciò che si sta facendo insomma ci alleniamo per qualcosa non alla cazzo così tanto per e ci spiegano in un certo senso perché andiamo a correre alzandoci presto al mattino o alla sera dopo il lavoro magari al freddo con la pioggia perché c'è qualcosa da ottenere dobbiamo fare qualcosa ci mette un po i pepi al culo per dirla molto semplicemente un altro nome che ti rimballo quest'oggi stavolta più underground è quello del professor john locke che nei suoi studi ha individuato 5 principi chiave da utilizzare quando si tratta di stabilire degli obiettivi e sono 1 chiarezza quindi quanto è chiaro e comprensibile l'obiettivo 2 sfida quanto questo obiettivo ci metterà alla prova 3 impegno quanto siamo dediti a raggiungere questo traguardo 4 riconoscimento come quanto le altre persone percepiscono i nostri progressi e 5 complessità quanto è difficile l'obiettivo finale e quanto sono complesse le attività intermedie per raggiungerlo inoltre locke ha selezionato 4 elementi che secondo lui rendono un obiettivo anche utile e sono 1 difficoltà se un obiettivo è troppo difficile tenderemo ad emotivarci se invece fosse troppo facile da raggiungere ci si adagirebbe sugli allori ci vuole un giusto compromesso per far sì che ci si possa spingere un po più in là e sentirci di conseguenza poi soddisfatti nel suo raggiungimento esempio facile facile se avete appena iniziato a correre pensare di fare una maratona dopo due mesi sarebbe molto difficile e frustrante però pensare ad una mezza maratona potrebbe essere un giusto compromesso tra sfida e fattibilità secondo elemento specificità più saremo precisi specifici nella definizione e più saremo portati ad essere regolari nello svolgere le attività richieste per raggiungerli quindi sarà bene scegliere e battezzare un obiettivo ben chiaro anche nel tempo con una precisa scadenza questo aspetto poi lo vediamo anche meglio successivamente ma dire voglio fare i miei primi 10 km sotto l'ora è diverso dal dire voglio fare i 10 km in 58 minuti alla gara x del 23 marzo aspetto numero 3 promemoria periodici il nostro cervello tende a perdere il focus su target soprattutto quelli a lungo termine pertanto è necessario ogni tanto riportarlo sulla retta via dandoli degli stimoli che gli ricordino perché stiamo facendo quelle attività e qual è l'obiettivo finale e 4 efficacia perché non tutti gli obiettivi sono considerabili efficaci nel senso che dobbiamo scegliere quelli che ci diano una soddisfazione profonda al portarli a termine e non solo temporanea ma andiamo avanti venendo più al pratico esiste una quantità industriale ormai di tecniche buone per andare effettivamente a definire degli obiettivi io ve ne riporto due che già sono più che sufficienti per avere una buona visione d'insieme agli americani perché queste cose vengono quasi sempre oltre oceano piace dare un sacco di acronimi e sigle perciò queste due tecniche che adesso vi presento si chiamano smart e hard vedrete meglio perché hanno questi nomi iniziamo dalla prima quindi della tecnica smart che è probabilmente quella più conosciuta ed usata a volte anche inconsapevolmente smart è l'acronimo di specific measurable achievable relevant e time bound adesso vediamo tutte e cinque queste voci nel dettaglio ma scoprirete che qualcosa è poi già saltato fuori pochi secondi fa specific quindi specificità gli obiettivi devono essere specifici chiari infatti lo dicevo anche prima non astratti occorre definire bene cosa vogliamo e come ottenerlo measurable cioè misurabile se non è misurabile sarà più complesso controllarlo e di conseguenza faremo più fatica a capire se stiamo migliorando o meno qua il parallelo con il running è abbastanza immediato i tempi di chilometraggio infatti sono dati oggettivi possiamo pensare ad un tempo sotto il quale vorremmo stare o provare ad abbassare il nostro personal best su una distanza achievable ovvero raggiungibile un obiettivo lo accenavo anche prima deve essere realistico e realizzabile tuttavia deve essere ambizioso al tempo stesso ci sta ed è bello che richieda un certo sforzo alle nostre abilità portandoci ad alzare l'asticella ma deve comunque restare possibile relevant rilevante ovvero deve essere importante per noi significativo solo se sarà coerente con le nostre passioni di nostri valori ci potrà far lavorare con entusiasmo anche per tanto tempo mi spiego un po meglio qua se correre una maratona è il sogno della vostra vita sarà molto più facile mantenere mentalmente l'impegno per riuscirci se invece avete messo come obiettivo qualcosa per il quale nutrite poco interesse alla fine della fiera sarà più probabile perdere il focus a lungo andare l'ultima lettera è time bound cioè limitato nel tempo con una scadenza anche di questo ne parlavo prima ma mettere una sorta di deadline è necessario per poter misurare i progressi e definire bene le attività per raggiungerlo oltre che per darci un'ulteriore motivazione perché inconsciamente darci una scadenza ci fa lavorare meglio con la corsa e con le gare anche qua viene abbastanza semplice iscrivendosi alla propria gare obiettivo già si avviene automatico questo aspetto ma se l'idea fosse solo voglio correre di più diventerebbe molto più vago la seconda metodologia è quella chiamata hard definita da mark marphy nel 2009 h sta per earth felt a per animated r per required d per difficult vediamole nel dettaglio earth felt significa sentito sincero se abbiamo un legame emozionale con l'obiettivo o se addirittura esso andrà a risolvere un nostro problema saremo molto più motivati nel percorso quindi se abbiamo iniziato a correre per perdere 5 kg anche qua definiamo il peso che si vuole raggiungere saremo molto motivati perché ci farà stare bene risolverà un nostro problema animated ovvero immaginarci nel futuro mi spiego più chiaramente quando pensiamo a cosa vorremmo fare dovremmo essere in grado di immedesimarci nel suo compimento immaginarci a come ci figureremo come saremo quando lo realizzeremo come ci sentiremo come ci vedranno gli altri questo ci aiuterà nell'avere una visione orientata al futuro e motivarci perché portare a casa appunto una gara una maratona ci renderà fighi da un certo punto di vista agli occhi della gente required cioè sentito percepito se sentiamo appunto un determinato target come forte necessario se sentiamo come una sorta di urgenza nel raggiungerlo daremo un notevole boost alle nostre motivazioni ed infine difficult lo dice il termine hard stesso comunque un obiettivo deve anche essere abbastanza complesso difficile come già visto anche prima è necessario tararlo con la giusta complessità per non esagerare ma è indubbio che più un traguardo è ambizioso e più saremmo soddisfatti al suo raggiungimento probabilmente avrete notato come ci siano alcune differenze di approccio tra la tecnica smart e quella hard questa seconda è più orientata alle emozioni dal percepito ma forse è anche di più difficile applicazione per certi versi mentre lo smart è un po più terra terra e consente una misurazione maggiormente precisa e ben si adatta al nostro sport in un mondo ideale si dovrebbe buttare uno sguardo un pensiero ad entrambe le tecniche combinarle tra loro così da definire i nostri obiettivi in modo completo avendo un punto di vista matematico ma che di anche uno sguardo alle emozioni ma indipendentemente da cosa sceglierete come sceglierete anche le vostre gare ed obiettivi ricordatevi di differenziarli nel tempo cioè di distinguere quelli più a breve termine da quelli da ottenere sul lungo periodo i primi sono orientativamente da raggiungere nell'arco di qualche settimana o mese al massimo quelli a lungo termine possono richiedere anche anni per diventare dei runner migliori e motivati occorrerebbero entrambi esempio super facile in questo senso si potrebbe voler abbassare quest'anno il proprio personale in maratona con una gara tra quattro mesi prima come obiettivo a breve termine ci potrebbe stare una mezza sempre dove fare un determinato tempo come traguardo più a lungo termine quindi per l'anno successivo dopo aver raggiunto una certa solidità sulla maratona correre una otto ore o una cento chilometri gli obiettivi a lungo termine ci fanno sognare ma al tempo stesso ci ricordano dove stiamo andando e perché lo stiamo facendo e non so se avete notato il perché esce spesso fuori qua dentro ci danno anche una visione completa pure sui nostri valori quelli nel breve periodo compongono invece la nostra quotidianità definiscono le nostre attività giornaliere e ci portano a piccoli passi verso i traguardi più grandi ed ambiziosi ho già accennato anche più volte a dare una scadenza quelle ravvicinate per gli obiettivi intermedi ci servono per tenerci con i piedi per terra e per dimostrarci quotidianamente che ciò che stiamo facendo ha un senso che ci fa pian piano migliorare se poi guardando lontano all'orizzonte il nostro obiettivo ci pare irraggiungibile dobbiamo provare a spacchettarlo a scomporlo ed è un concetto nuovamente legato ai micro obiettivi smontando un traguardo enorme in tante piccole azioni ce lo renderà più idealmente alla portata consentendoci di non demoralizzarci può capitare che di fronte ad un ostacolo enorme ci si senta come paralizzati dalla paura dal timore non si sappia da dove partire ma è agendo con la tecnica di piccoli passi che ci accorgeremo invece di poterlo realizzare inoltre ci può aiutare anche condividere questi obiettivi con qualcuno un po come lo faccio io quando in questo podcast dico voglio fare la gara x meglio se quando li condividiamo se per noi si tratta di una figura che consideriamo autorevole ci sentiremo moralmente più in obbligo di impegnarci nel loro raggiungimento infine ultimo consiglio sul tema per oggi ragionate onestamente sul vostro livello di partenza senza mettere obiettivi troppo ambiziosi se vogliamo quasi torna nuovamente a quello che è forse l'aspetto più complesso da definire all'interno di tutte le varie metodologie di cui ho parlato trovare il giusto compromesso tra le vostre capacità da runner ciò che volete raggiungere ed in che arco di tempo tutto è fattibile ma spesso ci vuole un certo periodo e ci vuole pazienza inutile affrettare i tempi per poi rischiare di esagerare non solo non si potrebbe raggiungere l'obiettivo ma più che altro ci si potrebbe o demoralizzare durante il percorso o portare ad infortuni da sovraccarico perciò onestà intellettuale innanzitutto un po di umiltà e tanta pazienza questo non è uno sport dove si ottiene tutto e subito o almeno è così per il 98 per cento di noi comuni mortali poi qualche esempio di persona che esce fuori dal nulla che ha iniziato a correre si è fatto con successo delle ultra c'è ma non è la normalità noi qua siamo tutti degli amatori chi più è voluto chi meno ma amatori e quasi certamente non abbiamo delle capacità atletiche fuori dal comune per cui ci tocca restare con i piedi per terra e ragionare con onestà ai nostri obiettivi che ripeto per chiudere è bello e duveroso che siano sfidanti personalmente credo proprio siano degli aspetti più belli della corsa che non hanno neanche tanti altri sport nel running compatibilmente con le proprie capacità ci si possono dare sempre a qualsiasi età e a qualsiasi livello dei possibili traguardi che ci possono motivare e sfidare per entrare come in un circolo virtuoso per una continua crescita personale e non solo da atleti ma visto poi che siamo in argomento di obiettivi fatemi sapere in chiusura quali sono i vostri per il 2024 al solito scrivetemi o commentando o contattandomi su instagram telegram via mail trovate tutti i miei recapiti nelle note della puntata sempre in descrizione ci sono i link per acquistare il materiale del podcast ma soprattutto per entrare a far parte dei miei patrons che ringrazio sempre con patreon potete sostenere in modo tangibile questo progetto si può partire anche da un singolo euro al mese ma per chi decide di donare di più ci sono anche tanti bei reward esclusivi a disposizione come le magliette o il gruppo su telegram trovate come sempre tutto quanto nelle note della puntata per oggi è veramente tutto cari runners definire bene i propri obiettivi è il primo passo per raggiungerli ci sentiamo alla prossima puntata attenzione attenzione